Ti alzi al mattino ed è subito sera. Le ore e i minuti scorrono inesorabili. Le settimane e i mesi si susseguono. Le stagioni con i loro ritmi si alternano. Nasci, cresci, diventi adolescente, adulto ed invecchi. Se ti guardi indietro ti accorgi che il passato è solo un ricordo della tua mente. Tutto ciò che eri ora in realtà non c'è più. Il tuo corpo non è mai identico a quello di prima. Esso muta perché le stesse cellule più giovani rimpiazzano quelle vecchie. Il tempo e le malattie trasformano continuamente il tuo aspetto esteriore che gradualmente si va deteriorando. Ma la tua anima immortale non subisce gli effetti del tempo cronologico. Essa è inquinata dall'indifferenza, dai vizi, dall'egoismo e dall'orgoglio. Ma può essere continuamente rigenerata in ogni momento dalla vera conversione. Cristo, se credi, fa nuove tutte le cose, compreso il tuo sguardo. Sai qual è il significato di tutto? In questa vita terrena, inconsapevolmente, tu stai attendendo una rinascita, la venuta del Signore. Ma devi essere preparato e Lui ti chiama quando vuole e come ha stabilito per il tuo bene. Allora vedrai tutto più chiaramente, perché non ci sarà più il tempo terreno che scorre, ma l'istante eterno. Grazie. 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 Grazie.